L'autorità per l'energia studia nuove mosse in vista della fine del mercato tutelato. Confartigianato moda e alto italiano per la conquista del mercato statunitense. L'economia del su misura, un viaggio nel cuore dell'innovazione artigiana. I giovani imprenditori orobici per la TED per Bergamo. Pneumatici fuori uso, Confartigianato sigla un accordo per la legalità ambientale. Buongiorno, bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Trasferimento degli oneri generali di sistema sulla fiscalità generale e offerta standard. Nella relazione annuale al Parlamento, il presidente dell'autorità per l'energia ha lanciato proposte che riguardano da vicino le piccole imprese, Lorenza Manessi. Si avvicina la completa liberalizzazione del mercato dell'energia. Nel 2018 i quasi 60 milioni di consumatori italiani, cittadini e imprenditori dovranno abbandonare il mercato di maggior tutela. Per evitare che il passaggio si riveli traumatico e che gli utenti più deboli finiscano nelle mani di operatori senza scrupoli, l'autorità per l'energia sta pensando ad un'offerta standard da inserire nel menu di offerte di ogni operatore. La proposta è stata lanciata dal presidente dell'autorità, Guido Bortoni, il 21 giugno, durante la relazione annuale al Parlamento. Per l'autorità si tratta di una sorta di modello contrattuale di base con clausole inderogabili, che ha l'obiettivo di supportare il consumatore negli aspetti più critici del rapporto negoziale con il venditore di energia e di gas. Nell'ambito dell'offerta standard, il prezzo resterà comunque determinato dal mercato. La proposta piace a confartigianato, che tuttavia fa rilevare il gap del 26% di maggiore costo dell'energia pagato dai piccoli imprenditori italiani rispetto alla media dei loro colleghi europei. Un divario che nasce anche dal peso degli oneri generali di sistema sulla bolletta delle piccole imprese italiane. Soltanto nel 2015 parliamo di qualcosa come 15 miliardi di euro. E anche in questo caso il presidente Bortoni ha avanzato una proposta più volte caldeggiata dalla Confederazione. Redistribuire in modo più equo sulla fiscalità generale gli oneri di sistema che oggi gravano soprattutto sui piccoli imprenditori. Musica per le orecchie di confartigianato, che di questo tema ha fatto una battaglia combattuta in ogni sede. Gli oneri generali di sistema, denuncia la Confederazione, sono articolati in 11 voci diverse caricate in bolletta e gonfiano di quasi il 40% il costo finale dell'energia. Ancora una volta quindi il presidente di confartigianato, Giorgio Merletti, ricorda che in vista dello stop al mercato di maggior tutela dell'energia devono essere assicurate precise garanzie ai consumatori. A cominciare da condizioni di concorrenza che garantiscono bollette meno care, migliore qualità delle forniture e trasparenza delle offerte. Ma soprattutto vanno eliminate le attuali sperequazioni su fisco e oneri di sistema in bolletta, che penalizzano le piccole imprese rispetto alle grandi aziende. È inammissibile, tuono Merletti, che l'80% del gettito fiscale sull'energia arrivi proprio dalle piccole imprese. Non ci stiamo ad essere utilizzati come Bancomat per finanziare sconti e agevolazioni per le grandi imprese. Confartigianato Moda continua a puntare sull'export, accompagnando le imprese associate alla conquista di nuovi mercati internazionali. Un impegno rilanciato con l'accordo firmato da Confartigianato e Alto Italiano per la promozione del Made in Italy negli Stati Uniti. Un partner leader del mercato californiano, con uno spazio espositivo di 350 metri quadri a disposizione, una fitta rete di buyers internazionali, fiere e showroom e un team di professionisti per la consulenza commerciale e l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Tra le varie offerte, l'accordo prevede uno sconto del 15% per la partecipazione agli eventi firmati Alto Italiano e una consulenza sulla registrazione di marchi e brevetti sui mercati esteri. Il 21 giugno, alla Camera dei Deputati, Confartigianato ha presentato l'economia del su misura, il viaggio di Paolo Manfredi nel cuore dell'impresa artigiana digitale. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Un viaggio dritto al cuore del tessuto produttivo italiano, più tecnologico e innovativo, fatto di imprese che hanno abbracciato la rivoluzione digitale, contrastando la crisi e conquistando nuove ed importanti fette di mercato. Paolo Manfredi, responsabile delle strategie digitali di Confartigianato, ha raccolto tante storie di imprese e imprenditori di successo in l'economia del su misura. Un libro semplice e veloce da leggere, che racconta i segreti e i successi delle imprese italiane a più alto tasso di innovazione. Abbiamo trovato un tessuto imprenditoriale molto vario, molto sano, di imprenditori giovani, ma anche di imprenditori meno giovani ma molto curiosi che utilizzano le tecnologie, il digitale, nuovi modi di produrre, ma anche nuovi modi di comunicare e vendere il proprio prodotto nel mondo. Con terroir, curiosità e sguardo verso il mondo, penso che le imprese artigiane possano andare molto lontano. Tante storie di impresa, idee, progetti e scelte imprenditoriali per descrivere l'economia del su misura, della personalizzazione del prodotto, da creare con tecniche della tradizione artigiana italiana e con una massiccia dose di innovazione tecnologica, una realtà economica che esiste e che è capace di creare ricchezza ed occupazione. Abbiamo per fortuna una realtà di piccola impresa di artigianato diffusa nel paese che fa straordinaria innovazione, non letta, non riconosciuta, non censita, perché le statistiche dell'Unione Europea, guarda caso, dimentichano l'osservazione di tutte le imprese sotto i 10 dipendenti, cioè in Italia dimenticano di osservare il 95,2% delle imprese. Quando dico che il digitale è straordinaria occasione per le piccole imprese per l'artigianato italiano, parlo non di una potenzialità ma di una realtà già per fortuna consolidata. Ci sono imprese che dalla crisi ne sono uscite straordinariamente bene proprio sposando le nuove tecnologie del digitale. Alla presentazione di L'economia del su misura, edito da Marsiglio per la Fondazione Nord-Est, hanno preso parte gli onorevoli Raffaello Vignali, Vinicio Peluffo e Antonio Palmieri, con la moderazione del giornalista Rai, Sandro Marini. Con loro Confartigianato si è confrontata per capire come la politica italiana possa sostenere un rinascimento digitale delle imprese artigiane. Le due iniziative più immediate sono quelle con il prossimo e l'imminente rapporto su Industria 4.0, di non pensare di applicare il modello tedesco che è fatto per la Germania, per le grandi imprese, al tessuto italiano che è fatto per oltre il 95% di imprese con meno di 10 addetti e che fanno già al loro interno un'innovazione che è sommersa e sfugge a rilievi. E l'altro discorso che è più generale, ma vale veramente proprio per questo per tutti, è quello laddove è possibile di far diventare lo Stato meno nemico di chi intraprende, di chi fa impresa. E quindi questo vuol dire nuovamente usare la tecnologia, per esempio per ridurre un po' gli obblighi burocratici, per fare in modo che attraverso il digitale sia semplificata la vita agli imprenditori. I giovani imprenditori di Confartigianato Bergamo hanno dato vita a una bella iniziativa in occasione della TED per Bergamo, la conferenza internazionale che presenta idee e innovazioni nel campo della tecnologia, dell'intrattenimento e del design. La prima iniziativa nata da questa collaborazione è stata la creazione di una scritta fatta con scarti di lavorazioni artigiane, che accompagnerà le prossime edizioni della manifestazione. Lo slogan con cui il nostro movimento ha deciso di stringere una collaborazione con TED per Bergamo per i prossimi quattro anni è RINNOVA AZIONE, ha spiegato Diego Armellini, presidente del gruppo Giovani. La scritta che abbiamo realizzato è il nostro modo di intendere e diffondere idee di valore, rinnovando in modo nuovo e creativo l'utilizzo di oggetti destinati a essere gettati, ha poi concluso Armellini. Basta con le incertezze sulla gestione degli pneumatici arrivati a fine vita. Un protocollo d'intesa, siglato da Confartigianato, stabilisce impegni precisi per tutti i soggetti della filiera. In nome della legalità ambientale e dell'economia circolare, il servizio di Lorenza Manessi. Arrivano novità positive per i gommisti e le officine di autoriparazione alle prese con il problema della raccolta e smaltimento degli pneumatici usati. Il 21 giugno a Roma, Confartigianato ha firmato un protocollo d'intesa con tutti i soggetti della filiera. Ecopneus, vale a dire i consorsi che ritirano le gomme, Federpneus, cioè i rivenditori, AIRP, l'Associazione dei Ricostruttori, e Lega Ambiente. Obiettivo dell'accordo, presentato nell'ambito del forum rifiuti, è quello di affrontare in modo organico e strutturale la gestione degli pneumatici arrivati a fine vita, combattere le irregolarità, premiare i comportamenti virtuosi ed educare i consumatori all'acquisto di prodotti sicuri. L'intesa prevede il monitoraggio del mercato illegale degli pneumatici, attività di tracciamento degli acquisti e delle vendite, forme di collaborazione con le autorità di controllo, sistemi per denunciare le attività illecite, fino ad arrivare ad una vera e propria carta d'identità dello pneumatico. L'accordo ha avuto il via libera del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, secondo il quale il protocollo ha il merito di creare un'alleanza civile che dice una cosa molto chiara. Il futuro è l'economia circolare, il riciclo è innanzitutto affermazione della legalità. L'intesa, che porta la firma del Presidente Giorgio Merletti, recepisce la sollecitazione più volte espressa da Confartigianato a coinvolgere tutti gli attori della filiera e a fare chiarezza sui rispettivi ruoli e responsabilità nella gestione di questa tipologia di rifiuti. Antonio Miele, Presidente di Confartigianato Autoriparazione, sottolinea l'impegno della categoria. Il lavoro deve essere fatto a regola d'arte, dare quelle garanzie necessarie per la tutela e la sicurezza dei cittadini e noi su questo ci dobbiamo spendere. L'abbiamo fatto convintamente con Ecopneus qualche anno fa, lo rifacciamo oggi con questi partner importantissimi, a partire dalle campioni del Ministero e tutti quanti. riteniamo che questa sia la strada e c'è ancora un margine di legalità che noi dobbiamo combattere, dobbiamo fare fortemente perché riteniamo che vivere nella legalità ci consenta a noi di operare meglio come operatori del settore, ma lo dobbiamo vedere anche dal punto di vista dei cittadini, come cittadini che quindi tenere pulito l'ambiente, salvaguardare l'ambiente è una cosa che ci torna utile sia per noi che per i nostri figli. Siamo in chiusura, vediamo insieme il numero che hanno scovato per noi gli amici esperti dell'Ufficio Studi di Confartigianato nella nostra rubrica Il numero della settimana. 727 sono i milioni di euro di minori esportazioni delle nostre micro e piccole imprese nel Regno Unito a causa dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Chissà, staremo a vedere. L'appuntamento è per lunedì prossimo sul sito di Confartigianato e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro! Grazie a tutti! Grazie a tutti